Austria e Germania non più così lontane, anzi letteralmente sul binario giusto. Riparte dalla ferrovia e il rilancio di Bari come piattaforma logistica mediterranea, in grado di collegare l'Italia e l'Europa con il resto del mondo. Un messaggio che viene dall'interporto del capoluogo, uno dei sistemi intermodali più importanti del sud. 50 ettari di superficie, 900 occupati e una capacità di movimentazione quotidiana dei 1300 mezzi commerciali, che si traducono in un traffico annuale di un milione di tonnellate di merci. La sua posizione geografica e quello che è stato fatto, quello che si farà, sicuramente lo candida per questo. È importante fare il lavoro di squadra, che tutti gli operatori del settore, di tutti i livelli e ognuno per la propria attività, partecipano e credano in questo lavoro di squadra che porterebbe la nostra Puglia a essere realmente la piattaforma d'Europa. Una struttura su cui puntano molto sia RFI che la regione Puglia, entrambi presenti alla tavola rotonda che è stata l'evento principale dell'open day dell'interporto di Bari. Noi in Puglia abbiamo ogni giorno circa 700 tir che calcalano le nostre strade con crescenti problemi anche di sicurezza e di usura di costi e l'obiettivo di questo nodo intermodale è di trasferire una quota di traffico merci che impropriamente scorre su gomma, trasferirla sul ferro perché questa è la modalità di trasporto che tra l'altro anche l'Unione Europea indica come la modalità da privilegiare nel futuro perché è la più sostenibile, la più ecologica, la più sicura. Per Minervini, dopo le aperture di Trenitalia sul traffico passeggeri e il progetto dell'alta capacità Bari-Napoli, il prossimo passo è il rilancio della dorsale adriatica per il quale a Bruxelles gli europarlamentari pugliesi stanno facendo gioco di squadra perché il corridoio europeo nord-sud non può fermarsi a Ravenna. Si tratta di una partita che richiede investimenti di gran lunga e inferiore, stiamo parlando di circa un miliardo, poco meno di un miliardo, quindi se si fa un raffronto rispetto agli altri investimenti infrastrutturari, ferroviari che il Paese sta facendo in altre zone, si tratta davvero di quattro soldi e crediamo che il valore del recupero di questa dorsale vaga quel piccolo investimento che ora chiediamo al Governo nazionale di condividere insieme con noi rispetto alle prospettive, alla programmazione europea.